salve amici bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale di recuperare i video precedenti se non li ancora visti detto questo cominciamo subito durante un notiziario in perù la reporter riprende alcune persone tra cui una in particolare che sembra non muoversi di un millimetro l'uomo sembra che non riesca ad accorgersi di ciò che gli sta succedendo intorno la stessa giornalista anche inquadrandolo non si accorge nemmeno lei dell'uomo e di quella strana posizione che assume osservando bene le immagini si può notare che le sue braccia sono deformi e storte la cosa davvero strana è che la giornalista gli passa davanti e non si accorge del ragazzo che lì fermo come se non lo vedesse come se solo la telecamera avesse ripreso quell'evento un certo franco villegas ha caricato un video su tiktok il video mostra prima il ragazzo mentre pratica un rituale per evocare uno spirito lo spirito non si lascia attendere ma dopo questo rituale in casa del ragazzo incominciano accadere delle cose davvero strane è una strana entità incomincia a manifestarsi apparendo davanti al ragazzo più volte terrorizzandolo questo è ciò che è stato filmato 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 Un cacciatore di fantasmi entra in questa struttura abbandonata, una volta dentro incominciano le sue indagini. Non riprende nulla di strano, però registra dei suoni davvero inquietanti. Questo è ciò che è stato filmato. Un certo Davide Melendez racconta che una notte una delle sue telecamere di sicurezza, installata nella sua proprietà, riprende uno strano fenomeno. È difficile capire cosa sia. Comunque, questo è ciò che è stato filmato. Il prossimo filmato mostra questa ragazza mentre sta suonando tranquillamente il suo pianoforte. Ad un certo punto, però, degli strani fenomeni cominciano ad accadere nella stanza. Una giovane, un po' spaventata, decide di farsi riprendere con la sua telecamera, la posiziona e ritorna a suonare il suo pianoforte. E questo è ciò che è stato filmato. Siamo arrivati alla fine ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti quale di questi filmati vi è piaciuto di più e quale mi ha spaventato di più. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!